Per misurare l'angolo di posizione di una stella doppia, non è necessario che il nostro occhio le percepisca separatamente nel nostro telescopio, infatti è sufficiente che sia evidente l'elongazione del disco centrale dovuta alla parziale sovrapposizione dei due dischetti di AI riprodotti dalle stelle. Per effettuare questo tipo di osservazione sarebbe auspicabile avere un buon SIN che permetterebbe di scindere parzialmente i dischetti. Grazie a tutti.